numeri contare e conoscere i numeri è essenziale impariamo a contare insieme all'inizio possiamo aiutarci con esempi e con le dita quando poi ci finiranno le dita conteremo insieme a volce alta cominciamo lo zero è un cerchio basta unire indice e pollici zero 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 uno per tutti tutti per uno dicevano i moschettieri uno una uno quante gambe due quanti occhi due dos dos servono tre ciocche di capelli per fare una treccia tre tre un quadrato a quattro lati uguali quattro 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 le dita di una mano sono cinque 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 sei 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 sette siete siete otto ocho ocho nove nueve nueve dieci 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 prima di ricominciare ripetiamo i numeri da uno a dieci uno dos tres quattro cinque sei siete ocho nueve dieci undici onze 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 dodici doze 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 tredici treze 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 quattordici quattordici catorze catorze quindici quinze 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 sedici diecis 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 diecisette diecisiete dieciotto dieciocho diecianove diecinueve diecinueve diecianove facile vero? e allora continuiamo ve nt venti 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 e poi uniamo ventuno venti uno venti uno beti ud due venti dos venti dos venti tre venti tre venti tre 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 e adesso passiamo alle decine 30 30 30 30 40 40 40 40 50 50 50 60 60 60 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 e finalmente 100 100 100 100 200 200 200 potreste già dirlo da soli 247 247 247 300 300 300 300 400 400 400 400 400 500 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 Due volte mille sono duemila. Dos mil. Tremila. Tres mil. Quattromila. Quattro mil. Quattro mil. Cinque mila. Cinco mil. Cinco mil. Diecimila. Diez mil. Diez mil. Ancora un attimo e concludiamo. Cento mila. Cien mil. Cien mil. Mil. E per finire un milione. Un milion. Un milion. Niente di terribile, vero? E adesso i numeri ordinali che ci sistemano la vita. Il primo è prima, l'ultimo è l'ultimo in bell'ordine. Cominciamo con primo, prima. Primero. Primero. Secondo. Segundo. Segundo. Terzo. Tercero. Tercero. Quarto. 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 Quinto. 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 Sesto. Sexto. Sexto. Settimo. settimo, settimo, ottavo, ottavo, nono, noveno, noveno, decimo, decimo, decimo. Quante volte dovete ripetere i numeri ordinali prima di ricordarveli a memoria? Una volta? Una volta. Una vez? Una vez? Niente di grave, anche se sono due volte. Dos veces? Dos veces? Oppure? Il doble? Il doble? Non sentitevi a disagio nemmeno se dovete ripetere tre volte. Tres veces? Tres veces? Oppure? Il triple? Il triple? Per finire facciamo un brindesi. Mezzo bicchiere di vino, per favore, metà, mezzo. La metà, la metà. Anzi, me ne basta un quarto di bicchiere. Un quarto. Un quarto. Un quarto.